I nisseni tornano all'emozione del mercoledì santo per il corteo della Real Maestranza e per il suo capitano Calogero Garzia che ha atteso questo momento dal 2019. Il fascino di una tradizione che risale alla seconda metà del Cinquecento e che ancora oggi suscita grandi emozioni in chi partecipa a questa settimana densa di significato e di mistero per Caltanissetta e per chi decide di venire a visitare la città. Siamo felici di vedere tanta gente, di ritornare a passeggiare, ovviamente con le dovute cautele, però contenti, contenti di venire Caltanissetta viva. È una cosa di nuovo bella vedere perché dopo due anni di non vedere la settimana santa nissena finalmente la città di incominciare a vivere sperando che non ci siano di nuovo blocchi con la pandemia. Speriamo che tutto vada bene e siamo contenti che tutto si riprenda come la vecchia vita, diciamo. Lei è nissena? No, da San Catalbo. Quindi è venuta apposta per vederla? Per vederla, sì. Io vengo pure da fuori dopo due anni ed è bellissimo e in giro si respira proprio un'aria fantastica, cioè i nisseni avevano proprio bisogno di ricominciare.